Nelle campagne i furti di ogni genere e di prodotti agricoli sono diventati una vera e propria piaga. Ad ogni stagione produttiva, come quella delle mandorle, delle carrube e delle olive, si mobilitano un numero imprecisato di soggetti dediti a questa attività delinquenziale. Furti e razzie di ogni genere sono diventate la normalità, perché il controllo delle campagne è stato da sempre trascurato, poiché le forze dell'ordine non hanno un sufficiente numero di uomini e mezzi per effettuare adeguati controlli. Di conseguenza, le nostre campagne sono in balia di ogni forma di scorreria, in quanto è mancata e manca la volontà politica di contrastare i fenomeni delinquenziali. Basta girare per le nostre campagne per constatare uno spettacolo desolante di fabbricati rurali senza tetti, perché sono state rubate tutte le tegole e persino le porte. Questa è la denuncia di Giuseppe Implatini, presidente del comitato Cambiare Scicli, che a tal proposito ricorda che il 23 novembre dello scorso anno è stata presentata dall'onorevole Basilio Catanoso una interrogazione parlamentare sull'ordine pubblico al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa, su segnalazione del comitato Cambiare Scicli. Nell'interrogazione parlamentare si chiedeva il potenziamento di uomini e mezzi per il commissariato di pubblica sicurezza di Modica e per la tenenza dei carabinieri di Scicli, al fine di consentire un adeguato controllo del territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ordine pubblico e salvaguardare le nostre imprese da furti e incendi dolosi. A distanza di circa un anno, entrambi i ministri, prima del governo Renzi e poi del governo Gentiloni, ha commentato in platini, non hanno risposto a detta interrogazione, dimostrando totale disinteresse per la problematica, non tenendo conto che la tenenza dei carabinieri di Scicli è sotto organico, in quanto dovrebbe avere 32 unità, invece sembra che le unità siano solo 22, e che il commissariato di pubblica sicurezza di Modica si trovi nella stessa situazione. E ha concluso la sua nota con un auspicio. Ora aspetta a noi tutti dare una risposta il 5 novembre, votando contro i partiti che sostengono questo governo, che non ha fatto nulla per ripristinare ordine e sicurezza nelle nostre campagne.